Negli ultimi giorni i fan del Grande Fratello sono stati travolti da una serie di rivelazioni riguardanti Elena Prestes e Lorenzo Spolverato. Secondo quanto riportato da Dejanira Marzano, esperta di gossip, i due concorrenti avrebbero avuto una conoscenza pregressa, alimentando così le speculazioni su un possibile flirt. Le segnalazioni sui social network si sono moltiplicate, ma è fondamentale prendere queste notizie con cautela, poiché non ci sono conferme ufficiali. Le voci suggeriscono che Elena e Lorenzo avessero progettato di costruire una storia all'interno della casa per attirare l'attenzione del pubblico. Tuttavia il piano sarebbe andato in fumo quando Lorenzo ha iniziato a frequentare Sheila Gatta, lasciando Elena delusa e arrabbiata. Questo cambiamento di rotta ha portato attenzioni tra i due, con la modella brasiliana che sembra averci tenuto particolarmente a mantenere viva la loro ship. Dejanira Marzano ha anticipato che ci sono ulteriori rivelazioni in arrivo che potrebbero stravolgere la situazione attuale. Gli autori del programma starebbero cercando il momento giusto per svelare la verità, lasciando i telespettatori in trepidante attesa. La curiosità cresce e molti si chiedono perché Elena e Lorenzo non abbiano mai parlato esplicitamente della loro conoscenza al di fuori della casa. Un'ulteriore segnalazione, proveniente da una telespettatrice anonima, ha rivelato che Lorenzo e Elena si sarebbero conosciuti bene prima di entrare nel reality. Secondo questa fonte, ci sarebbe stato un flirt tra i due, alimentando ulteriormente le speculazioni. La telespettatrice ha anche menzionato che un ex concorrente del GF sarebbe a conoscenza di questa situazione, suggerendo che la verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri. Le rivelazioni su Elena e Lorenzo non solo hanno acceso il dibattito tra i fan, ma hanno anche portato a richieste di squalifica per Lorenzo a causa dei suoi comportamenti all'interno della casa. La tensione tra i concorrenti è palpabile e i litigi tra Lorenzo e Shaila Gatta si intensificano, mentre Elena sembra essere sempre più coinvolta in questa intricata trama di relazioni. La situazione si fa sempre più interessante. E i telespettatori non...